No, Vale? Ci ha lasciati da soli oggi? Di che sono queste tutte? Che casco? Anche questi caschi mica sono nostri. Ciao, Vale. Ma dove sei? Di dove ci parli? Te che dobbiamo girare. Oggi siete dei ribelli come in Star Wars. Fuori ci sono i piani. Andate e trovateli. Il primo che li trova vince. Guardate! 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 Guard Grazie a tutti.